in cui Natalia Ginsburg dice che una famiglia è anche, forse soprattutto, fatta di voci che si intrecciano, è un linguaggio comprensibile solo a chi lo pratica, è una rete di ricordi e di richiami. Quindi questa dimensione estremamente effettiva, legata alla propria memoria, legata alla propria esperienza, legata ai propri modelli, ai propri ricordi, uno dei temi principali che fa di un genitore un genitore è la consapevolezza e l'elaborazione del rapporto che ha fatto con il proprio genitore. Esiste in psicologia e soprattutto negli studi sull'attaccamento un concetto che è quello della trasmissione transgenerazionale, studia soprattutto all'interno delle ricerche sul trauma e questi studi mostrano come esperienze traumatiche non elaborate o non elaborabili, pensate che la maggior parte degli studi sulla trasmissione transgenerazionale sono stati fatti con le generazioni successive alle vittime dell'olocausto e quindi chiaramente traumi non elaborabili o molto difficilmente elaborabili. Ecco, la traumaticità è qualcosa che viene incorporato in, chiamiamolo un modello operativo interno, direbbero gli attaccamentisti, e che viene trasmesso nella generazione successiva. Quindi questo richiamo che Natalia Ginzburg fa, l'importanza del linguaggio e della memoria e dell'elaborazione del linguaggio e della memoria, è un tema molto importante da tenere presenti. Il modo in cui i nostri genitori guardano a noi come genitori può essere un grande fardello, può essere un grande sostegno, un grande aiuto.